1983, nella classifica Costruttori, finì quarto dietro il vincitore Nelson Piquet, Alan Prost e il compagno di scuteria René Arnaud. Tombé è stato un pilota completo, perché oltre a correre nelle Formule Minori, in Can-Am e in Formula 1, griffa la sua carriera correndo alla 24 Ore di Le Mans e alla Parigi Dakar. Nella piacevolezza dei ricordi di un ex pilota completo, passato anche in Ferrari, mi preme dire che, no, non è stato solamente il sostituto del suo grande amico Jill.